Il voto attraverso modalità elettronica è difficile, è complesso. Cosa succede se lo si implementa anche solo per una consultazione popolare alla pene di Segugio? Beh, succede quasi 10 milioni di voti falsi, pare, e non qui, negli Stati Uniti. Ciao internet! Il voto elettronico è complesso e se la massima parte di, anzi, la completezza di tutti quelli che hanno davvero un buon skill sulla sicurezza informatica, ogni volta che qualcuno dice voto elettronico vanno in giro urlando con le mani nei capelli per la stanza un motivo c'è. Uno degli ultimi esempi che ci sono sono legati alla neutralità della Rete. No, non parleremo, non preoccupatevi della legge, della neutralità della Rete, ne parleremo solo tangenzialmente. Perché? Perché in realtà negli Stati Uniti, dopo un, anche dopo una consultazione popolare che ha visto una grande quantità di risposta del pubblico a favore di una modifica legislativa, la neutralità della Rete è stata cancellata, o perlomeno ridotta in maniera significativa. Tutto questo sulla base di una consultazione popolare che era stata richiesta, per vedere se i cittadini erano d'accordo o non d'accordo. Una interrogazione popolare particolare, perché in realtà sembrava molto che la maggior parte della cittadinanza fosse in realtà contraria alla sua abolizione. Le ombre erano tante, le prime indagini sono un po' particolari e adesso si scopre che, beh, c'è qualcosa che non va. Sono nove milioni e mezzo i voti che sono stati fatti su questa piattaforma con estrema probabilità in modo fraudolento, con i nomi e i cognomi di qualcuno che non sa in realtà di aver votato. Addirittura un unico utente pare aver votato un milione e duecentomila volte con identità, anche quelle recuperate dalla Rete. Chi aveva interesse? Beh, praticamente tutte le società di telefonia. La neutralità della Rete faceva in modo che fosse molto più complesso, diciamo, avere dei margini sostenuti sugli utenti delle varie connessioni domestiche. E adesso ci si chiede come andrà avanti la cosa. Come andrà avanti? Boh, probabilmente a questo punto, essendo una parte consuntiva di una legge che poi alla fine però è passata, non ci saranno grandissimi sconvolgimenti, ma certo è una cosa, che anche in questo caso il voto elettronico è stato manipolato ed è stato manipolato con dei fini che hanno impattato la realtà. Non si trattava di un voto politico, certamente, si trattava semplicemente di un voto espresso dalla cittadinanza su un tema di interesse, quasi fosse un voto espresso da un partito privato, da una forza politica, da un'associazione privata. E anche in questo caso il voto è andato un po' a ramengo. Il problema vero è che è difficile in Rete verificare una votazione, è difficile identificare le persone, è difficile verificare che tutto il processo scorra in maniera fluida. Non c'è ancora nessuno che è ancora in grado di farlo in maniera semplice, veloce, e soprattutto raccogliendo un consenso anche solo marginale. E i motivi sono anche questi. E quando non mi posso fidare di un mezzo anche solo per esprimere una semplice opinione, beh, forse non è il caso ancora. Cosa ne pensate di dare a sistemi come questi in mano votazioni ben più importanti? E voi? Cosa ne pensate? È bello, vero? 10 milioni, è un bel numero di finti bot. In realtà non sono bot, sono persone che hanno usato identità di altri per votare. Raccontatemi qui sotto cosa ne avete pensato e se non vi siete ancora iscritti questo potrebbe essere il momento giusto per farlo, anzi vi dico di più. su www.matteoflora.com trovate un piccolo sito web che vi dice dove seguirmi come podcast, come canale YouTube, come pagina Facebook o anche la newsletter, il canale Telegram, tante cose per essere sempre aggiornati sulle nuove possibilità. E con questa buon lunedì, grazie mille per avermi ascoltato e anche oggi a inizio settimana estote parati. Grazie a tutti.